no la parrucca in alza la parrucca di anno non abbiamo perché perché non è che abbiamo tutto comunque stai bella con con il vestito di e di elsa è più bello di papà o leone? ho bisogno di un favore sto guardando su amazon perché voglio comprare un slow cooker e un instant pot ma ci sono diversi marchi non so quale sia il migliore c'è qualcuno che lo usa qualcuno che mi posso suggerire? vi faccio vedere la mia cena di francesco di stasera che l'ho preparata in meno di 5 cioè no 10 minuti dai ho messo a bollire l'acqua poi dentro l'acqua ho messo fagiolini sedano poi una volta bollita ho messo due cosine di colore questa pasta che è uno spaghetti di konjac è molto light per chi vuole low calorie solo 28 calorie per 100 grammi per quanto che ho messo meno di 100 grammi è ricchissimo di fibra no gluten quindi anche per i cilieci c'è un po' una texture di medusa a me piace però quindi una volta bollito pronto ho spento il fuoco ho messo miso di riso che è la zuppa giapponese carota grattugiata adesso metto un boccino di semi di sesamo tostato e un po' di sesamo really really yummy vediamo se a francesco piace amore com'è a parte la postura sediti bene buona buona buona? mi sono dimenticata ci sono anche le alghe nori francesco è già quasi finito no ciao però